alzi la mano chi si aspettava un debutto così scintillante perché non pochi temevano magari un approccio più complicato visti i tanti mesi di chiusura covid e il salto di categoria ebbene sono stati smentiti e alla grande e sono inumidi a dirlo sette reti nove legni un numero indecifrato di parate del portiere avversario tantissimi errori sotto porta buonissima la prima dunque per la polisportiva che davanti al poco causa covid 19 pubblico amico ha lasciato briciole al grottaie apparso inferiore in tutti i fondamentali per le loncelle di mister michele panarale solo applausi per il gioco espresso la sua qualità la quantità pressing da tutto campo voglia di vincere divertirsi e divertire tre marcature sono state di filomena ottmani il centrale difensivo con il vizio del gol due dell'olandese tulipano biondo nancy lott una a testa per brenda moreira e valeria valenzano per le tarantine di mister loco rotondo c'è stato poco pochissimo da fare anche perché forse con questo bitonto non c'era nulla che si potesse fare sono contentissimo della prestazione da parte di tutti abbiamo giocato con quasi dieci dodicesimi delle ragazze in campo quindi anche c'è stata anche una bella rotazione sono molto felice perché prima partita di iniziare siamo iniziato con tre punti e sette gol e sono felice domenita prossima tappa numero due si va a far visita al napoli sconfitto a rione rinvulture è Grazie.